Non lo so, dipenderà da come giocherà la squadra, da come giocheranno insieme, i play-off non sono per le singole prestazioni e per aggiustare le statistiche ma per raggiungere un obiettivo comune, quindi se mi arriverà la palla ma un mio compagno sarà in una posizione migliore. No, non sarà sicuramente facile giocare contro il loro pacchetto lunghi ma non l'è stato neanche contro Reggio perché anche Reggio era ben munita con Cervi e con Wright. In questo momento non si possono fare pronostici su quello che sarà facile e su quello che sarà difficile, è difficile tutto perché comunque è tempo di play-off. Cervi e con Wright, e non è facile da giocare contro Reggio, ma è un challenge, è un challenge, è un play-off, non è facile a questo punto. In questo momento è tempo di play-off, non dobbiamo pensare al fatto che abbiamo perso 4-0 contro di loro, non dobbiamo pensare che ci hanno buttato fuori dalla Champions e non dobbiamo pensare che ci hanno tolto il secondo posto. Dobbiamo semplicemente pensare a giocare. Non abbiamo bisogno di più motivazioni, soprattutto i giocatori, magari i giocatori più giovani, ma non noi veterani, sappiamo benissimo cosa significa giocare play-off. E' la possibilità della scuola, non è l'experà, non è l'experto, ma non è l'experto, abbiamo bisogno di poterlo con david Logan, con il suo gruppo di Sean Jones come un backup, non lo vediamo. Non lo vediamo, abbiamo un'esperienza molto molto potente per chiunque, e è il mio sogno. Grazie a tutti.